Un momento che ha lasciato il pubblico televisivo impietrito e senza parole. Majin Kelly, giornalista di Fox News, ha annunciato in diretta a TV la morte della sorella. La sorella Susan Crosley è deceduta improvvisamente venerdì dopo aver accusato un malore. Aveva 58 anni. Kelly ha descritto che la salute della sorella non era stata delle migliori negli ultimi due anni con un problema dopo l'altro. La conduttrice TV ha spiegato davanti a milioni di telespettatori. Qualcosa di veramente triste è successo nella mia famiglia durante il fine settimana. Mia sorella è morta, aveva 58 anni, si chiamava Susan Crosley e ci ha lasciati improvvisamente venerdì. È stato davvero un momento difficile, ha raccontato la conduttrice con le lacrime agli occhi. I miei genitori sono disperati perché si sa, non è questo l'ordine in cui queste cose dovrebbero accadere.